Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si registrano due chilometri di coda tra in Cesaregello e Firenze in Pruneta in direzione Bologna e in direzione Roma a code tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud con code in uscita a Firenze Sud. Passiamo sulla 11 dove a causa del traffico intenso si segnala un chilometro di coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipi Litra, Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze con code in uscita a Scandici provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece a causa di lavori rallentamenti tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 Firenze in Pruneta e per il momento è tutto Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!